Il direttore di Confagricoltura Foggia, Giuseppe Campanaro, richiama l'attenzione sulle moratorie legislative realizzate in Italia in favore delle imprese danneggiate dal Covid-19. Le PMI con sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano alla data del 17 marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, e che hanno inviato entro il 31 gennaio 2021 a banche intermediari finanziari una autocertificazione in cui hanno dichiarato di aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia, non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 giugno 2021 le aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti. Sono prorogati fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni i prestiti non rateali. E' sospeso sino al 30 giugno 2021 il pagamento delle rate di finanziamenti, anche perfezionati tramite rilascio di cambiali agrarie e dei canoni di leasing. Dai chiarimenti dell'autorità bancaria europea ne consegue che le posizioni sospese avranno una ridotta probabilità di non essere automaticamente classificate come non performing da parte della banca. In altre parole si riduce fortemente il rischio di classificare automaticamente come un prestito in defu il prolungamento delle moratorie per legge, quale quello disposto con la legge di bilancio per il 2021.